Saluto cordialmente a tutti i polacchi, voi per primi avete sostenuto l'Ucraina, aprendo i vostri confini, i vostri cuori e le porte delle vostre casse agli ucraini che scappano dalla guerra. State offrendo generosamente a loro tutto il necessario perché possano vivere dignitosamente nonostante la drammaticità del momento. Vi sono profondamente grato e vi invico di cuore. E questo frate francescano che fa lo speaker adesso in polacco, ma lui è ucraino. I suoi genitori sono in questo momento nei rifugi sottoterra per difendersi delle bombe in un posto vicino a Kiev e lui continua a fare il suo dovere qui con noi. Accompagnando lui accompagniamo tutto il popolo che sta soffrendo dei bombardamenti, i suoi genitori anziani e tanti anziani che sono nel sottoterra per difendersi. Portiamo nel cuore il ricordo di questo popolo. Grazie a te per continuare nel lavoro.